Il Daishinkan, padre di tutti gli angeli, dà il via alla ribellione angelica. Stanco di essere considerato un servo, spodeste due zeno, ordinando agli angeli di eliminare tutte le divinità della distruzione. I guerrieri Zeta purtroppo vengono sconfitti, e Goku, rimasto solo, cade in battaglia sotto i colpi del gran sacerdote. Grazie alle lacrime dei due zeno, Goku ottiene un potere divino senza precedenti. Con un'ultima sfera Genkidama, il Daishinkan viene completamente spazzato via. Dopo un sorriso rivolto verso i propri amici, Goku cade a terra sfinito. Benvenuti in Dragon Ball After the Future, la serie che arriva ogni domenica alle 14.30 solo sul mio canale YouTube. Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer, e bentornati su Dragon Ball AF come ogni domenica alle 14.30. La storia di tutti i guerrieri Zeta continua, ed ora che il Daishinkan è stato sconfitto, sembra che la ribellione degli angeli si sia conclusa definitivamente. Ora cosa accadrà a Goku? Il nostro potentissimo Saiyan avrà ancora nel proprio corpo il potere di Zeno? Preparatevi, poiché in questo video comprenderemo quale sarà il destino di Goku. Guardate questo video fino alla fine, poiché quello che succederà nelle fasi finali di questo episodio sarà qualcosa che potrebbe addirittura scioccarvi. Come sempre vi ringrazio tutti dal primo all'ultimo per continuare a supportare in maniera davvero incredibile Dragon Ball AF. Davvero grazie. Ma adesso ho un annuncio da farvi. Questo episodio è l'ultimo della seconda stagione, ma fermi tutti tranquilli. La terza stagione inizierà praticamente subito. Ci fermeremo solo una domenica, ovvero la prossima, quindi l'11 marzo, poiché forse sarò anche a una fiera, poi vi darò altri dettagli, e poi la domenica successiva, quindi il 18 marzo, inizieremo con la terza stagione di Dragon Ball AF. È chiaro che poi, tranquilli, farò in futuro anche i film che riguardano tutte le saghe della seconda stagione. Adesso però tocca a voi. Se volete davvero la terza stagione con nuovi episodi, nuove saghe di Dragon Ball AF, dovete superare ora assolutamente i 5000 like, i 6000 like. Abbondiamo ragazzi, vi voglio davvero più carichi che mai. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi ora al mio canale YouTube, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video, quindi attivate anche la campanella delle notifiche, e direi a questo punto di ricollegarci ai precedenti episodi, per comprendere meglio cosa è successo, e soprattutto come ha fatto Goku ad ottenere questa trasformazione in Omni King, tramite il potere divino di Zeno. Dopo aver sconfitto il Daishinkan, Goku cade a terra privo di forza. Il potere divino di Zeno sembra aver abbandonato il Saiyan, che giace ora immobile. I guerrieri Zeta temono il peggio, ma non sanno che Goku sta ora combattendo per la sua vita. Il suo corpo, infatti, non ha retto un potere così immenso. Ed è proprio in un momento come questo, in bilico, tra il Regno dei Vivi e l'aldilà, che Goku ricorda le sue più grandi battaglie, i momenti migliori della vita di un Saiyan. La battaglia con Freezer è stata la prima battaglia in cui Goku si è trasformato in Super Saiyan, un potere che gli ha permesso di vendicare non solo Krillin, ma anche Bardak, ovvero suo padre. La promessa fatta a Vegeta è stata mantenuta, e con quella battaglia è stato onorato lo spirito di ogni singolo Saiyan. Goku comprende che sfidare Bills è stato un altro momento speciale della sua vita. Grazie ai suoi fedeli amici e familiari, ha ottenuto il Super Saiyan God, eguagliando la potenza dell'originale Super Saiyan God della leggenda. In quell'occasione egli fu sconfitto, ma fu l'inizio di tutto ciò che ha portato lui e Vegeta ad allenarsi con Whis, affinché essi potessero trascendere e trasformarsi in Super Saiyan Blue. Colui che però in passato ha messo davvero a dura prova Goku è stato Jiren, un guerriero superiore anche alle divinità, che è riuscito ad ottenere l'ammirazione e il rispetto dei dodici universi. La battaglia con Jiren gli ha permesso di controllare l'ultraistinto, la tecnica che le stesse divinità faticano a padroneggiare. Alcune battaglie però hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di Goku, e continuano a tormentarlo in profondità. Ma quali sono queste battaglie così assurde? Beh ragazzi, le rivivremo adesso! Infatti vi ricordo che nel corso di Dragon Ball F, Goku ha affrontato davvero tantissimi nemici, molto potenti, il primissimo combattente che Goku ricorda, e che gli sembra di riaffrontare, è un combattente molto potente. Si tratta addirittura di un vero Saiyan. Un Saiyan però dal sangue molto speciale. E stiamo parlando di Zaiko, il suo figlio segreto. Costui ha delle origini davvero molto oscure, ed è arrivato sulla Terra per distruggere totalmente suo padre. Goku quindi, in fin di vita, sta combattendo davvero tantissimo con sé stesso, per continuare a vivere, visto che il suo corpo ha ceduto totalmente, e in questa fase di confusione totale, gli sembra di riaffrontare tutti i suoi nemici più temibili. E tra questi c'è proprio suo figlio. Zaiko è stato il primissimo, vero, antagonista della mia serie di Dragon Ball F. Come sapete, deriva dal fan manga di Toyotaro, o Toyotaro, chiamatelo come volete, ma questo grandissimo combattente è diventato sempre più forte, ed è arrivato sulla Terra proprio per vendicarsi di Goku. Vediamo quanti di voi hanno visto la mia serie di Dragon Ball F, dal primo episodio, che facevamo, se ricordate, addirittura sul primo Dragon Ball Xenoverse. Erano anni fa, ragazzi, e oggi, ancora nel 2018, sono ancora qui per raccontare vicende assurde ed inimitabili con Dragon Ball F. C'è da dire anche una cosa fondamentale, è proprio nel corso della saga di Zaiko che Goku ha ottenuto un potere davvero incredibile, che va oltre il Super Saiyan di terzo livello, e va anche oltre il Super Saiyan di quarto livello. Infatti vi ricordo che inizialmente la saga di Zaiko era ambientata dopo Dragon Ball GT, in cui Goku, ottenuto il Super Saiyan di quarto livello, va poi via direttamente con i draghi, come Omega Sharon e tutti gli altri, raggiunge un piano astrale superiore e lì si allenerà per sempre. Goku però, ragazzi, supera davvero i suoi limiti, trasformandosi addirittura in qualcosa di mai visto prima, ovvero il Super Saiyan di quinto livello. Ragazzi, quante storie abbiamo visto insieme proprio con Goku in Super Saiyan di quinto livello, ed è ancora tutt'oggi nel 2018 qualcosa di incredibile. Ma cosa è significato per Goku dover affrontare un combattente che riconosce improvvisamente essere suo figlio? È stato davvero quasi uno shock, molto molto potente, e non si aspettava di dover affrontare un combattente così spietato che ora voleva vendetta da suo padre. Poiché, ragazzi, vediamo quanti di voi si ricordano qual è la vera storia di Zaiko e chi è la madre. Ragazzi, vediamo quanti di voi riescono a scrivermelo nei commenti. Mamma mia, ragazzi, che bei vecchi tempi. E vi faccio notare che Zaiko fu sconfitto non da Goku, ma un altro guerriero. Vediamo se vi ricordate di chi si tratta. In ogni caso, qui, nella sua mente, Goku conclude lo scontro in modo diverso. Goku combatte con i propri demoni al massimo della propria energia, e scaglia una super kamehameha che distrugge in pieno Zaiko. Ma Goku, purtroppo, continua a stare male, e mano a mano ricorda di altri nemici, di altri incubi, che lo hanno messo davvero alle strette. Un nemico, infatti, potentissimo, che lo ha spinto oltre ulteriormente il Super Saiyan di quinto livello, sta per arrivare, ragazzi, ed è proprio lui, ovvero Ize, il figlio di Freezer. Costui, ragazzi, è un combattente davvero potentissimo, e guardate un po' che grandissimo potere è riuscito a raggiungere con questi spuntoni davvero assurdi. In quell'occasione, Goku ha davvero superato i suoi limiti, trasformandosi nel Super Saiyan di sesto livello. Una trasformazione davvero incredibile, un Super Saiyan dorato che è talmente potente che consuma anni di vita del Saiyan che utilizza questa trasformazione. Piccola parentesi, vi ricordo che prima di Ize c'è un altro grandissimo combattente, c'è stata un'altra saga. Vediamo quanti di voi se la ricordano. Qua, ragazzi, vi sto mettendo davvero la prova, e noi ci buttiamo in questa battaglia con Ize, 100% pura malvagità. Combattiamo, tra l'altro, in uno scenario davvero incredibile, ragazzi. Io in questa saga ho fatto qualcosa di assurdo, guardate quanto spacca, proprio perché ho cercato in tutti i modi di omaggiare il primissimo vero scontro tra Goku e Freezer su Namek. Quindi siamo ritornati su Namek alle stesse condizioni, ovvero un pianeta totalmente distrutto. Abbiamo Goku che ottiene una nuova trasformazione che è un nuovo punto di inizio proprio per Dragon Ball in generale, per la mia serie di Dragon Ball F, comparandola quasi al primo Super Saiyan. E poi c'è Ize, ovvero il figlio di Freezer che, come potete comprendere appieno, va a richiamare assolutamente il potere oscuro di suo padre, la sua pura e vera malvagità. Quindi ragazzi, vediamo qui una battaglia davvero assurda e guardate quanto spacca questo Super Saiyan di sesto livello. Nella propria mente è chiaro che Goku sta combattendo davvero contro di lui, ma è chiaro che una cosa del genere non sta davvero accadendo in maniera fisica, accade tutto nella mente di Goku che continua a colpire il proprio nemico e guardate il potere del Super Saiyan di sesto livello. Nella propria mente Goku, con il potere del Super Saiyan di sesto livello, riesce a distruggere totalmente Ize, il figlio di Freezer, tornato in vita per vendicare suo padre. Nel corso del tempo, però, Goku comprende che non ha trovato solo nemici, ma anche degli amici, come ad esempio Ardos, che, come tutti sapete, è partito per lo spazio insieme a tutti i Saiyan per trovare una nuova casa. Chissà se un giorno costui tornerà in Dragon Ball App, magari in una terza stagione. In un momento speciale, Goku però ricorda di una trasformazione, una trasformazione che ha utilizzato un'unica volta nella sua vita e in quel momento di confusione totale si chiede come sia possibile una trasformazione davvero divina. Il Super Saiyan White, il Super Saiyan bianco che abbiamo visto nell'ultimo episodio della prima stagione di Dragon Ball App. In tanti mi avete chiesto che fine avesse fatto questa trasformazione. Beh ragazzi, forse finalmente la rivedremo poiché Goku ricorda una potentissima battaglia ovvero quella di un Bu proveniente da un universo alternativo che inizialmente aveva preso possesso del corpo dei draghi oscuri nella saga dell'Apocalisse dei Draghi vista oltre un anno fa e quindi rivede questa grandissima battaglia. E mano a mano incomincia a ricordare delle cose che aveva completamente dimenticato. Incomincia a risentire delle parole che aveva totalmente cancellato dalla propria mente. Ma di cosa si tratta? E mano a mano a cosa sta arrivando Goku tramite questi ricordi? Sono davvero emozionatissimo perché sì questo è l'ultimo episodio della seconda stagione di Dragon Ball App ma con una sola settimana di pausa quindi la prossima domenica Dragon Ball App non ci sarà riprenderemo dal 18 marzo con la terza stagione di Dragon Ball App e ho in mente delle storie davvero incredibili per voi delle storie che superano probabilmente anche quelle viste qui nella seconda stagione che hanno messo le basi per una terza stagione a mio parere davvero assurda che sono sicuro vi farà davvero impazzire. Quindi Goku ragazzi è più carico che mai è pronto ad utilizzare tante mosse per sconfiggere sul serio questo Shin Bu che si mostra davvero potentissimo. Nei suoi incubi però Goku sembra subire davvero tantissimi danni è molto diverso molto strano quello che sta succedendo poiché non è la realtà dei fatti non è quello che è successo davvero nel corso della battaglia tra Goku e questo Shin Bu proveniente da un universo alternativo com'è possibile che la storia stia cambiando così tanto e tutto succede nella sua mente quindi Goku potrebbe avere tutte le carte in regola per essere davvero in vantaggio contro un avversario di questo calibro come mai non riesce ad avere sempre più potere come mai non riesce a sconfiggere questo Bu purtroppo non riesce a trovare delle risposte e non comprende per quale motivo non può trasformarsi nel Super Saiyan White una trasformazione che nella vera battaglia con questo Bu è riuscito ad ottenere e qui sembra quasi inerme ma c'è un momento speciale un momento in cui Goku forse sembra essere pronto ma tutto improvvisamente si ferma e Goku nel suo sogno sembra risplendere di energia dalla battaglia con Kid Bu proveniente da un universo alternativo Goku non ha più utilizzato la forma bianca del Super Saiyan sembra quasi essere un ricordo sempre più lontano all'improvviso però due voci molto sottili simili a quelle di due bambini gli sussurrano una frase molto particolare ora che il Daishinkan non c'è più saremo noi a decidere cosa è proibito e cosa no ora sei pronta ad utilizzare il Super Saiyan White avvolto da un'energia divina Goku apre gli occhi e si rivolge ai propri amici dicendogli che andrà via per un po' seguirà i due Zeno e gli angeli rimasti affinché egli possa superare ulteriormente i suoi limiti per poi un giorno ritornare sulla terra per continuare a difenderla come ha sempre fatto prima di salutare tutti i guerrieri Zeta li avverte che userà le Super Sfere del Drago per riparare quanto distrutto fino ad ora e per riportare in vita tutti i caduti divinità della distruzione comprese per Goku questo non è un addio ma un arrivederci per nuove e divine avventure ebbene sì Goku per ora abbandona totalmente il pianeta Terra e l'universo 7 ma anche tutti i 12 universi in modo tale da partire con le divinità va via con Zeno va via con gli angeli in modo tale da diventare sempre più forte fare degli allenamenti davvero divini che gli permettano di controllare al meglio non solo l'ultraistinto ma anche il potere del Super Saiyan White che sembra essere collegato davvero in maniera eccezionale a Zeno e a tutti gli angeli suppongo sappiate questo cosa vuol dire che nella terza stagione Goku forse chi lo sa riotterrà il Super Saiyan White e ci saranno delle cose davvero incredibili ci saranno nuove storie nuove ripercussioni legate al passato legate al presente e legate chiaramente al futuro non trascuriamo però una cosa molto interessante che nel corso delle battaglie con il Daishinkan e gli angeli che in realtà stavano fingendo di supportarlo si sono aperti dei varchi spazio-temporali un po' in tutti gli universi questo potrebbe chi lo sa forse portare ripercussioni impreviste Dragon Ball Earth quindi non finisce qui anzi è un nuovo grandissimo inizio per una terza stagione assurda che vedrete qui sul mio canale la prossima domenica non l'11 marzo ma il 18 marzo a distanza di anni dalla sua nascita la mia serie di Dragon Ball Earth continua sempre grazie a voi quindi ragazzi davvero grazie per tutto l'incredibile supporto che mi date di continuo per ora quindi insieme a Goku che è partito con Zeno e gli angeli vi saluto ma ci vediamo fra due settimane per la terza stagione incredibile di Dragon Ball Earth mi raccomando ragazzi iscrivetevi ora al mio canale YouTube cliccando qui al centro se non l'avete ancora fatto e cliccate qui a destra e sinistra in modo da guardare anche altri video presenti sul mio canale ultimamente abbiamo visto il sesto DLC con la nuova storia il finale segreto e presto vedremo tutti i nuovi personaggi quindi alla prossima ciao ciao